Favolosa! Lei su Instagram si mostra moltissimo, molto bella, sexy, in costume, in lingerie. Perché le piace mostrarsi così tanto anche, insomma, svestita sempre per carità? Vabbè, non sono bigotta. No, ma perché le piace mostrarsi? Sono una donna dell'est, quindi il rapporto col corpo è un rapporto di naturalezza, di libertà, di naturalezza, eccetera. Io ho iniziato come modella di moltissimo corpo, costumi da bagno, biancheria intima. Mi ha mai smesso, dice. Io sono molto diversa da quello che si vede lì, non riesco ad essere me stessa. C'è qualcosa di sbagliato? Dice, ma assolutamente no, sei proprio te. Ma come te? Dice, sì, ma solo che tu ti vedi molto più giovane e quindi nella tua testa tu vai così. È anche un po' esibizionista. Ma certo, è normale. Tutti noi che facciamo spettacolo siamo un po' esibizionisti, no? Chi più, chi meno, quasi tutti più. In un'intervista a Dario Crestodina lei ha detto sono slava, noi slavi abbiamo gusti forti. Mi piace il sesso, non ho pudore ad ammetterlo. Gusti forti in che senso? Nel senso che il sesso per me è stato sempre un qualcosa di molto attrattivo. fin da quando ero piccola, piccola. C'è proprio una bambina. Per me guardavo le cose, le figure, eccetera. Per me era un mondo che mi... Che guardava da bambina, scusi. Beh, guardavo perché quando tornavo dal collegio in estate, allora c'era il figlio dei portieri che mi dava tutti i giornalini, le cose. Porno. No, porno no. Però mi dava quei giornalini che erano disegnati. Sai che c'era così? Ma io sentivo tutto un caldo che mi veniva. Ed ero piccola, me lo ricordo ancora questa cosa. Mi ricordo... Sì, ero molto attratta e incuriosita dal sesso, sempre. Mi dice una bella belvata che ha fatto e che rivendica. Belvata sarebbe una cattiveria? Ma anche un po' una carognata, magari simpatica, magari non simpatica, una cosa di cui si pente o che rivendica. Avrà fatta, facciamo tutti. Non lo so, non sono così, eh. Non sono tanto... Sono abbastanza un libro aperto. E dire ad Adriana Volpe che è un opinionista senza opinioni, per esempio, è un po' una belvata. Per aiutarla. Beh, lei, devo dire la verità, è proprio ovvia, non mi piace. Mi ha sempre annoiato, anche nella casa. Mi piacciono le persone un po' intelligenti, frizzanti. Poi, soprattutto, mi incuriosiscono le persone dalle quali ho qualcosa da imparare. Ed Adriana Volpe non ha imparato niente. No, no. Invece ti devo ammettere una cosa. Ho imparato da lei a usare quell'attrezzo nella cucina che frulla le verdure. Ah, beh, fondamentale. Io non cucinavo, infatti. Non ho mai cucinato nella mia vita. Lei è nata povera, poi è diventata miliardaria. Poi è stata un'ex miliardaria. Un'ex miliardaria. Adesso come se la cava? È così. Sono un'ex milionaria. Ex milionaria. Sì, però vivo. Che rapporto ha con i soldi, davvero? È un rapporto di grande rispetto. Anche perché comunque i soldi ti danno un po' di felicità. È inutile mentire. Non mi piacerebbe diventare poverissima, assolutamente no. Senta, lei ha detto Pianto tanto in ville meravigliose e su barche da 50 metri. A Miami vivo in un appartamento da 70 metri quadri e sono più serena. Vabbè, così sono bravi tutti. Mica ha detto in una favela a San Noto di Rio. Eh, lo so. È una casa a Miami, 70 metri. Però, insomma, prima diciamo che eravamo molto esageratamente ricchi, no? Però, sfuggito così, non mi sono accorta. È andato via tutto. Qual è l'eccesso che ha vissuto in ricchezza e in lusso nella sua precedente vita? Una cosa che ricorda come eccessiva. Ad esempio, a un anniversario di matrimonio, Vittorio mi portò un anello enorme di zafferi con un bracciale, con tutti i zafferi brillanti, eccetera. E lui mi disse, guarda, così sì, sì, mettilo là, grazie. Quindi voglio dire. Non lo so perché è così la vita. Perché non si dà il giusto valore alle cose quando si hanno, non lo so. Le piaceva la sua vita precedente, con sincerità, dal punto di vista del lusso? Ero sempre triste. Non so perché. Comunque avevo una vita... Aerei privati, case, attori, registi di Hollywood, gente, non lo so, divertente. Anche posti bellissimi. Invece non le bastava. Però non lo so perché, ero molto triste. Estim